Ripartanza difficile non solo per le industrie del tessile, ma anche per le piccole e medie imprese del mondo artigiano. In questi giorni si cerca di recuperare quote di mercato, che rischiano di andare perdute dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid. Molto desiderata e molto sofferta. Prima si desiderava ripartire. Ora siamo ripartiti, si desidera fortemente gli ordini, che per ora non sono così tanti. Verranno, arriveranno. L'altro grande problema da sciogliere riguarda la messa a punto di procedure di sicurezza anticontagio. All'orditura GT2000 sono scattati ferrei protocolli, trattotemi igienizzanti per le mani, dispositivi individuali di protezione, di cui sono stati forniti tutti e 22 i dipendenti, e la rigorosa misurazione della temperatura all'ingresso. Per riavviare la produzione serve in sostanza fiducia e attenzione, ma anche unità. Ecco che la proposta di Giovanni Santi della Beste, lanciata in esclusiva su TV Prato, trova il pieno appoggio del titolare Andrea Belli, uno dei primi sostenitori della tesi dell'aggregazione tra imprese del distretto. Soprattutto ora, ci credo ancora di più, dovremmo da questa esperienza terribile che stiamo vivendo, che abbiamo passato e stiamo passando, dovremmo proprio trovare il tempo di poterla impostare e realizzare. Abbiamo tante cose da dire ancora.